E dunque di nuovo buonasera a tutti, di nuovo buonasera a tutti, e anche il gol, ok, ci siamo, yes, bene, i link si vedono, quindi è tutto andato come si deve, spammino tattico, esatto, giusto per chi si fosse perso il podcast di Repilogo che anch'io ho fatto due giorni dopo perché lavorando e tra impegni vari non sono piaciuto recuperarla domenica, l'ho recuperata lunedì, però ci siamo, no? Per parlare di questo GP di Jedda che tra fuori e dentro la pista ha dato, non dico spettacolo, ma tanti spunti di interesse direi. Emozioni controverse, diciamo che altro, emozioni controverse. Ecco, quindi parliamo subito dell'argomento più importante, federazione internazionale, ma cosa vi combinate tra i fuori e i dentro? Devo dire che ho seguito il tutto da giornalisti, fondamentalmente, anche la gara ho seguito una diretta giornalistica, cioè che ogni giro scrivevano cosa succedeva, perché non sono riuscito a vederla, e poi ho visto solo gli highlight. Però, prima della gara, come dicevi tu, parliamo un attimo del macello che c'è stato, perché federazione internazionale, cosa combinate, direi che poteva essere il titolo della live. Esatto. Inter, cosa ha combinato? Sì, perché tra il dentro e il fuori pista ne ha combinato abbastanza. Allora, riassumiamo un attimo, c'è stato, lo sappiamo, l'attacco di... Ti fai subito così, dopo fai tutto il discorso interrotto. Il collega dice, intanto per i meme, doppietta di Raspadori nella partita più iniziale di sempre. No! No! Complimenti! Grande! Complimenti sincerissimi a questa grande squadra. Che perde contro la Nord Macedonia nella partita che conta come le nostre alloratorio, praticamente. stravince. La Nord Macedonia, poi bisogna specificare il fatto che è Nord Macedonia. Nord Macedonia, sì, sì. È più o meno come perdere con il traversetolo, a occhio, perché ci siano gli stessi abitanti a grandi linee. Sì, più o meno. Allora, no, il contesto del GP di Jed è stato qualcosa di importante in senso contrario, no? Per chi non lo sapete c'è stato l'attacco dei ribelli iemeniti a un condotto petrolifero dell'Aramco a 20 chilometri letteralmente dalla pista e giustamente si è posto il problema se correre o non correre. Poi sono girate delle voci, dopo oltre tante ore di riunioni e compagnia bella, dove si doveva decidere se correre o non correre. Alla fine si è deciso di correre e c'è stata questa gara, che per me è stata bella negli ultimi dieci giri, per molti è stata molto emozionante. Io sono dell'opinione che gara un po' me, ma poi ne parliamo. Io l'ho trovata una gara carina, ma come dicevo poi ne parliamo. Più che altro il fatto è che il problema collegato ai ribelli iemeniti è ai piloti, di cui io penso che abbiano avuto seri problemi nell'imporsi, perché secondo me vanno il coltello della parte dei mandi che sono stati degli idioti e basta, ma ci arriviamo, perché l'attacco dei ribelli giustamente ha spaventato parecchia gente, e vorrei anche vedere, ti cade un missile a 20 chilometri, soprattutto missili artigianali, ci vuole poco a cannare il bersaglio. Sì, le due domande te le fai anche, certo. Detto ciò, al di là del che ci vuole poco a cannare il bersaglio, che comunque, tra virgolette scusami, passano i termini, in realtà i ribelli sono stati bravi, perché il bersaglio l'ha incentrato, quindi forse in quel senso ti senti sicuro, dici vabbè, sanno dove li mandano, però in ogni caso dico, il problema è che i ribelli hanno sparato a uno stupendimento petrolifero di Aramco, che è lo sponsor principale e quasi padrone della FIA. Insomma, diciamo che è un grandioso investitore, poi che abbia un enorme potere politico lo si è visto, nel senso che... Però dico, è giusto che ti senti terrorizzato, cioè io sono un tuo investimento e tu sei il bersaglio di quelli là, e ci sta che io mi stia un po' cacando sotto, se permetti. Sono onesto, io ho condiviso alcune opinioni di altri canali che seguiamo, faccio un nome a caso, quello della Formula 1 dimenticata, che ha detto che per questo Gran Premio, visto la decisione di correre il Gran Premio, loro non hanno commentato per niente, no? Di solito fanno le alte luci, in quel format che mi piace molto del video, hanno detto per questo Gran Premio noi non faremo commenti, facciamo sciopero, possiamo usare questo termine. Non diamo luce a un Gran Premio che... No, ci rivediamo l'anno prossimo. Cioè, è una scelta che io personalmente condivido, ecco, poi io il Gran Premio l'ho visto lo stesso, sono anche dell'opinione che in generale lo sport dovrebbe andare oltre, la politica e quant'altro. Non dovrebbe però cedere, secondo me, a pressioni, immagino che ci sono state del regime saudita, no? Perché gli arabi volevano dare, secondo me, una dimostrazione di forza contro i ribelli yemeniti. Come ho detto nel podcast che è uscito oggi alle 7, non escluderei il fatto che abbiano respinto con perdita gli yemeniti per garantire sicurezza, no? Evidentemente al Circus, perché altrimenti non avrebbero corso, giustamente. Cioè, se il Circus avesse detto, signori, non ci sentiamo sicuri, anche perché poi, metti caso, nelle estreme ipotesi, no? Il missile arriva di domenica, durante la gara. Cioè, addio Aramco, addio Arabia Saudita, addio quello che vuoi. Cioè, nel senso... Sì, ma posso fare due commenti? Cioè, allora, primo, se anche li avessero respinti con perdite, la domanda è, vale la pena di respingere con perdite per una gara di uno sport? Primo, per me, eh no. Primo, quello. Secondo, va bene la dimostrazione di forza, ma sono d'accordo con te che lo sport dovrebbe essere esterno a queste cose, se non in condizioni proprio particolari della serie Russia. Lo sappiamo, annulliamo il GPD Russia perché sono intoiti per la Russia che sta facendo un atto di guerra in civile. E lì ha un senso proprio al di fuori dello sport. Cioè, ha proprio un'utilità pratica. Quindi posso anche capire il ragionamento. Annetto che gli Yemeniti, comunque, non è che se la stiamo passando proprio bene bene, cioè, rispetto ai Sauditi. Esatto, ma voglio dire, il discorso Sauditi-Yemeniti, già io non mi ci infilerei in mezzo perché dire chi ha ragione dei due è come dire chi ha ragione tra Israele e Palestina. Cioè, ci infiliamo in dei discorsi in cui, calma, perché... Cioè, andare tu, azienda sportiva, a mettere il naso in cazzi politici tra i più complicati del mondo, non è una grande idea, secondo me. E... ma più che altro è il metodo con cui è stato fatto il tutto. Perché sono state annullate le conferenze stampa, è stato nascosto tutto, hanno fatto sembrare tutto come... sì, facciamo la gara, sti cazzi, non è successo niente. Peccato che giornalisti BBC, giornalisti di altre fonti, sono riusciti a far trappelare notizie e soprattutto insider delle squadre hanno fatto trappelare notizie all'esterno. Quindi hanno fatto, sti Sauditi, una figura talmente di merda che io fossi nella FIA, capisco che siete lo sponsor, ma guarda, scendiamo il contratto e l'anno prossimo non voglio più vedervi. Perché una figura di merda così non è paragonabile tranquillamente alla figura di merda di Putin, secondo me. francamente io non avrei corso, ecco, la gara della rappresentanza. Questo è assolutamente poco ma sicuro. Avrei fatto quello che avevi detto tu quando parlavamo prima, cioè primo giro ci si ritira tutti. Io ho rovinato lo spettacolo, abbiamo corso, ci siamo ritirati, abbiamo rovinato lo spettacolo. Sì, sì, sì. Dopo si è ritirati, oh accidenti, abbiamo fatto degli errori, in 20 giri abbiamo spaccato tutti la macchina. Beh, anche perché comunque con tutti i motori che sono esplosi, poteva anche essere credibile, ecco, poi al reparto della pista ci arriviamo dopo, però effettivamente, cioè, ci stava un segno di protesta così. Ho otto auto in due gare che penso non si sia mai vista nella storia della Formula 1. Esatto. Tranne nel tutto a posto fino a questo momento, che lì va bene. Io ero d'accordo palesemente con i piloti che hanno espresso la bontà di non correre, quindi Hamilton, Alonso, Gasly, Russell e compagnia cantante. Ha corso lo stesso, è venuta fuori una gara interessante perché a definirla bella, secondo me, ce ne passa. Poi arriviamo ai motivi tecnici. Un altro motivo, e qui vado un attimo poi sul motivo pista, no? Per cui questo tipo di pista io l'abolirei dal calendario di Formula 1, ma a prescindere dal contesto iemeniti-sauditi che trascende allo sport, dal punto di vista sportivo. Allora, anche qui, Federazione Internazionale, mi rivolgo direttamente a voi. Avete rotto il cazzo per anni con la sicurezza, i piloti devono essere sicuri quando guidano e devono rendere le mani su sicurezza, intervenendo anche su piste meravigliose come Spa-Francorchamp. Perfetto, ci siamo capiti. Rompete tanto le balle con la sicurezza e poi correte in piste come Singapore e questa di Jedda, dove praticamente hai muri a tre metri, sempre, via di fuga inesistenti e dopo, ci credo che il povero Mick Schumacher, in qualificazione a 250, sbatte contro due muri e si gioca le possibilità di un ingresso in zona. Punti. Poi scusami, hai visto la dinamica dell'incidente di Mick? L'ho visto in diretta. Sì, sì, sì. È una roba paurosa. Allora, anche questa è una cosa che è assolutamente inconcepibile. Avete scelto di tornare le auto a effetto suolo? Mi sta molto bene. Per funzionare l'effetto suolo devi rasare il suolo, devi proprio raderlo con il fondo della macchina. Non puoi correre su piste che abbiano dei cazzo di salsicciotti come cordoli. Cioè, dovevi imporre alle piste nella fase di pausa, che voglio dire, sostituire dei cordoli sono dei tocchi di plastica, non è che ci voglia così tanto per sostituire. Dovevi imporre alle piste di sostituire tutti i cordoli alti con cordoli più alti. O correre, cambiare il calendario e corri in piste che non hanno cordoli alti. Non puoi andare a Jedda in mezzo a noi di cemento in una pista con dei cordoli alti così, con una macchina che deve stare tanto così dal suolo. È ovvio che il primo che, anche, non il voler prendere il cordo, ma lo sbandare semplicemente e sfiorare il cordo significa volar via e prendere un muro a 300 all'ora. È ridicolo. Poi parliamo di sicurezza, ma facciamo correre questi con una macchina che non può alzarsi, perché altrimenti prende il volo, quindi una macchina che non può alzarsi da terra in un posto che la fa alzare da terra. Non avete capito un caso. Sì, sì. È vero, come quello che dice anche il collega, che è vero che a Monaco vanno piano, ma a Monaco non è una pista di Formula 1. È un aborto che andrebbe abolito dal calendario da sempre, eppure lo fanno. Ma anche se vanno piano e anche se hanno... È pericoloso lo stesso anche a Monaco. Perché non hai vie di fuga, ogni incidente è una safety car. Per altri motivi, ecco, è pericoloso. Perché a Monaco è stretta. Ma anche se vanno piano e hanno delle macchine che abbiamo dimostrato con Gaugiane e anche con Mica adesso, che c'entra tra 150 muro, non ci fai una piega. E va bene. E siamo molto contenti. Ma è comunque un attimo che succeda, banalmente per dire, una roba alla Felipe Massa molla nell'occhio. Non so se ci ricordiamo. Sì. Cioè, è un attimo anche che succeda una cosa qui. Anche se vai piano. Cioè, se tu stai andando a 200 all'ora, quello davanti c'entra il muro e un pezzo della sua macchina c'entra te e ti prende in testa, ha lo o non ha lo? Se ti ha preso direttamente in faccia un pezzo, vai all'ospedale tranquillo. Cioè, sono piste che non sono sicure. Poi c'è la gente sui balconi che dà sulla pista. Anche lì, un detrito ci mette un attimo a 300 all'ora a schizzare su un balcone e c'entra in faccia uno. Non è un modo sicuro di fare gare. Monaco, come non lo è Singapore, come non lo è Jedda, per motivi diversi, ma non sono gare sicure di nessuna. Neanche Monaco, secondo me, è sicura. Singapore poi fa ulteriormente schifo, ma spero di non parlarne quando arriveremo al Gapemo di Singapore, perché Singapore fa un caldo della Madonna, hai una pista come Jedda, come larghezza di strada e i muri sempre a tre metri, ma non si passa mai. E poi è un circuito lunghissimo. Per un cittadino fare un giro di 1,50 è troppo. Cioè, per altri motivi non è sicuro. E poi fa schifo. Cioè, non si passa mai. Puoi fare una pista dove, dopo ci arriviamo però in gara, dove si blocca la pitlane perché non riesco, per due giri perché non riescono ad arrivare quelli che devono spostare la macchina. Perché non c'è l'ingresso. Vabbè, ma Fable sono gli stessi. Ma che l'ho fatta a spostare la macchina? Come cazzo avete fatto sto circuito? Sono gli stessi, ricordo, che hanno messo bandiera rossa per un'ora dopo l'incidente di Mick. Quindi, intanto il collega ci chiede l'opinione. A proposito di Halo, voglio la vostra opinione sulle abitacoli chiusi in Formula 1. Sì o no? E qua andiamo sulla tecnica. Quindi è tutta tua l'opinione in Formula 1. Sì. Sì, per due motivi. Perché facendolo chiuso l'alo potresti chiuderlo sopra e quindi togliere il perno davanti agli occhi del pilota e quindi il pilota aveva una visibilità nettamente migliore. Anche perché siamo perfettamente in grado di fare vetri, tra virgolette, che non saranno fatti di vetro perché non possono esplodere in faccia il pilota, però vetri completamente trasparenti di qualunque materiale. Quindi potremmo farlo, avrebbe una visibilità migliore, una resistenza maggiore, sarebbero più protetti. Avremmo però il problema del come uscire dalla macchina. Vi bisogna valutare bene. Ma magari potresti fare un meccanismo, banalmente, un meccanismo come ci sono tipo negli aerei, con piccole esplosioni che fanno saltare fuori il vetro e poi il pilota esce. Non lo so, una cazzata del genere. Adesso invento, però sicuramente sono capaci di fare delle robe incredibili, sarebbero capaci di fare quella cosa che si estrae da sola dopo l'incidente. Penso che non ci sarebbero problemi. Io onestamente penso di sì, anche perché i piloti avrebbero più visibilità. Assolutamente. Poi dopo, diciamo che con questa modifica renderebbero più le Formula 1 simili all'LM1 del GT World Endurance, no? Il mio unico dubbio è quello lì, cioè non sarebbero Formula 1, sarebbero un'altra cosa che però è in linea con le altre categorie. Abbiamo fatto delle indicazioni come Formula 1, quindi a questo punto, sì, no, per carità. Voglio dire. Per carità, no, no, ma adesso non so se magari per il prossimo cambio regolamentare introdurranno questa cosa. È un disegno interessante, senza dubbio. Poi bisogna vedere cosa e come impatterà sulla aerodinamica e compagnia. E' chiaro che ha uno scopo aerodinamico, ma ciò su cui non sono d'accordo banalmente in questo campionato è il copri-ruota. Non è il copri-ruota scoperte se le ruote sono coperte. Non l'ho capito, cioè in Formula 2 ha fatto che... Allora è una LMP se ha le ruote coperte, no? Eh, infatti. Non è il campionato delle ruote scoperte, quindi non l'ho capita questa cosa. No, no, sì. Così come non capisco quelle regole idiote che dicono che lo specchietto non può avere funzione aerodinamica. Perché? Cioè è lì l'importante che abbia le dimensioni per farmi vedere correttamente che rispettano le regole. Perché un specchietto non posso farlo aerodinamico anche quello? Cioè non ho mai capito questa regola della FIAG, gli specchietti o non essere aerodinamici, ho sempre trovato una cazzata incredibile. Insomma... Faccio la macchina, l'ultima tecnologia possibile, immagina una bomba incredibile, vanno a 500 all'ora, sta attaccata al sole, faccio la curva a 500 all'ora, però gli specchietti no, quelli devono rompere i coglioni l'aerodinamica, perché sì, devono essere quadrati. Finisco la parentesi su Jedda, gli affattigliarvi sono talmente furbi che non solo chiudono la pitlane per un bel po' di tempo perché non riescono a spostare due macchine e poi ci arriviamo, ma sono sempre gli stessi che hanno fatto un'ora di bandiera rossa in qualificazione per l'incidente di Mick Schumacher di qui sopra. Non benissimo. Ho fatto anche le vaccate nella F2. Chiedere al povero Auger Dennis da Oslo, ma ne parliamo come chicchina finale quando parleremo della direzione gara in Formula 1. Gli arabi poi sono talmente furbi, almeno in Arabia Saudita, che l'anno prossimo la pista di Jedda non sarà questa, sarà un'altra. Ma la mia domanda è, se devi custodire un circuito definitivo tra appunto un anno o due anni, ma fallo direttamente tra uno o due anni il GP dell'Arabia Saudita, tanto? Cioè, di nazioni che vanno direttamente a integrare il circuito di Formula 1 ci sono sempre, basta recuperare una Turchia a caso, spero l'Ausitz Ring, è la mia petizione di mettere l'Ausitz Ring in Formula 1, non lo faranno mai. Ma come è che in Indianapolis? Non mi dispiacerebbe l'idea. Fa già il gran prevo di Miami ed Austin, cosa fai? Altro GP in America? In Indianapolis però era più bello, sia di Miami che di Austin. Miami non l'ho ancora visto, infatti io tremo quando vedrò il GP di Miami, perché è l'ennesimo cittadino. Ma Miami hai visto la mappa, hai visto la mappa, è Monaco 2, o Singapore 2. Anche perché poi mio cugino ha studiato in Florida, è stato a Miami, nel Hard Rock Cafe Stadium, quello dei Dolphins di NFL, e le strade sono tipo larghe così, cioè non ci passano la mappa, assisteremo al solito circuito di larghezza due metri con i muri, senza via di fuga, circuitone. Infatti questa FIA sostanzialmente ha rotto i coglioni con il discorso i soldi prima di tutto, perché adesso è bello fare gli umanitari quando c'è la questione russia, che tanto a noi non ci tocca perché c'è solo uno sponsor su una macchia, lo facciamo togliere, sti cazzo non ce ne frega niente. Poi però quando girano i soldi ecco che improvvisamente saltano fuori notizie dalla BBC, da altre fonti, dagli insider tipo il team analyst della Ferrari, eccetera, saltano fuori notizie che sono letteralmente stati sequestrati e gli hanno detto no, voi siete proprietà dell'Aramco, quindi correte o avrete seri problemi a uscire dal paese. Quella poi pare sia una fake news, ma cambia poco, nel senso che... Però siamo anche lì, ci vuole poco a far la cagata e poi chiedere scusa o dire è una fake news o questo o quello. No, no, per certo. La BBC avrebbe dovuto uscire con una fake news del genere. La visione mia è un po' più nel complesso, nel senso che i sauditi hanno una geopolitica favorevole agli americani e agli stati occidentali, diciamo così, la Russia no, e quindi diciamo che secondo me anche questo... Quindi da un lato chiudiamo l'occhio, mentre dall'altro no. E per me non è il modo giusto di lavorare, intendiamoci, se dovremmo ragionare sul fatto appunto che, oh mio Dio, la guerra è brutta, quindi non facciamo legale, allora l'Arabia suddita è in guerra con lo Yemen, allora l'America è stata in guerra da sempre con tutti, niente circuiti d'America, cioè voglio dire, allora bisognerebbe correre praticamente solo in Italia, Europa, in Francia no, perché la Francia è andata a rompere qui in Tunisia, quindi in Francia no, in Vietnam anche, in Italia, sì in Vietnam perché era attaccato, quindi possiamo accettarlo, Norvegia, basta, non corriamo, voglio dire, per quello dicevo lo sport dovrebbe trascendere oltre a queste cose. È una comica, quando gli fa comodo sono politicamente corretti, quando non gli fa comodo non sono politicamente corretti, allora esatto, trascendiamo e basta, perché così è solo una comica. Allora, a proposito di comiche, due cose per il meme, la Tiffinicolas da Montreal che si schianta di nuovo e la Viva for Sexty Car, così il collega a Pondigenza. Quello che era primo che passa terzo, infatti ho visto il meme bellissimo, hai presente il meme classico dell'uomo impiccato che dice prima volta a quell'altro? C'era, come si dice, Perez impiccato e di fianco Hamilton e Hamilton che gli fa, prima volta quando la Tiffin si è schiantato. Fantastico, fantastico. Bellissimo. Sì sì, Perez che peraltro per l'incidente di Latifi, e qui entriamo nel merito della gara, no? Quindi seconda parte della nostra scaletta, cioè ha perso la gara, perché parliamoci chiaro, questo era primo, in qualificazione ha fatto il giro dell'anno, il giro dell'anno ha fatto Perez, non gli viene mai più un terzo settore così in Arabia Saudita e si ritrova quarto per meriti non suoi, cioè demeriti non suoi, cioè incredibile. Sì, e poi come sempre la gestione della direzione gara lascia il tempo che trova, perché come sempre Raffia non è capace di scegliere, di imporre delle regole, scegliere un gruppo di, come si dice, giudici che sia sempre quello, che sia imparziale, che le applichi tutte, come diciamo noi, magari presi uno da ogni squadra così automaticamente diventa imparziale la cosa, perché non sono capaci di fare questa cosa e quindi ad ogni gara come sempre le regole vengono applicate come ne hanno voglia, motivo per cui Perez in uscita dai box, pare che abbia avuto la controversia con Sainz, che poi mi è sembrata veramente una... Non c'è nulla, non c'è nulla, assolutamente no. E quello l'hanno indagato e invece, come si chiama, Leclerc che ha pizzicato appena appena, non era da punire per amore di Dio, però ha pizzicato la linea dei box durante il duello con Verstappen in ripartenza alla safety car, cosa che non poteva fare, quello teoricamente non era da punire perché l'ha proprio pizzicata, non puoi dare una punizione a uno che gioca per la gara, per una cazzata del genere, però quello era da investigare più che altro per far la scena, di dimostrare che si fa qualcosa, invece quello l'ha lasciato passare sti cazzi, quindi ci accaniamo contro Perez perché sì, quando non c'è niente, però poi i primi due, come sempre, sono i primi due e quindi gli lasciano fare quello che vogliono a prescindere, ragionamento è sempre quello. Vedi la gara dell'anno scorso sempre aggetta da Michael Matic non è cambiato niente. Esatto, è quello, cioè l'anno scorso Hamilton e Verstappen hanno fatto quel cazzo che volevano e abbiamo penalizzati molto meno di quel che dovevano, qui non è la stessa cosa ma insomma circa, anche qua le comiche cioè, che poi è stata una cosa in consulta bella, il doppio bloccaggio Leclerc e Verstappen per non farsi superare la vicenda, ma parliamo. Bellissimo. Io non ho mai visto una roba del genere. Hanno veramente tirato al limite quelle macchie, cioè loro giravano un secondo più giù del quarto. Cioè, Sainz quando era quarto, che poi dopo è arrivato terzo a fine Sainz. Terzo, ha fatto podio. Sainz nel momento in cui era quarto girava sei decimi più lento di Leclerc e Verstappen, Perez girava un pelo più veloce, poi dopo ci sono stati gli scambi e varie cose. E il quinto era più di un secondo sul giro. Cioè, 50 giri c'è un minuto di differenza. Bostruosi. Sono due mostri. Hanno le macchine come l'anno scorso Verstappen e Hamilton, cioè che sono su un altro livello. Però a questo punto, per la seconda volta, come dicevo l'anno scorso, secondo me Verstappen e anche Leclerc nel suo, stanno dimostrando anche che sono dei piloti con i controcoglioni, perché i loro colleghi, cioè Sainz che gira sei decimi più lento di Leclerc, qui si vede il talento. Qui vedo il talento del pilota. Cioè, direi che è indiscutibile. Infatti che Leclerc e Verstappen siano due fenomeni, cioè, noi non avevamo dubbi a riguardo. Questo sarà un campionato bellissimo. Fa un po' il rammarico che, secondo me, la gara è meno bella perché tutti hanno detto che col nuovo regolamento sarà la rivoluzione, tutti si potranno seguire da più vicino, ci sarà un mucchione selvaggio di gente. No. Ci sono sempre due squadre davanti a tutti. Cambi Ferrari con McLaren, cambi Mercedes con Ferrari e cambi Hamilton con Leclerc. Allora dai, a metà del gruppo in effetti, togli i due, è come nel ciclismo, togli i due che vanno in fuga. Il gruppo però combatte. Il gruppo combatte la grande, cioè è un continuo sorpassarsi l'uno con l'altro. È bello. Poi pensa anche al... ma banalmente, vabbè, Hamilton ormai è un uomo morto, cioè nel senso che hai fatto una gara che è stata... sì, ha superato facilmente i primi perché sono dei poveri disadattati paragonati a lui. Cioè, voglio di sperare la tiffia e quella gente gli ci vuole poco, però nel senso paragonalo a quello che ha fatto Russell, questa gara è stata veramente imbarazzante da parte di Hamilton. Però anche lui nel suo, con la grinta, lo stile e tutto quello che ha Hamilton, che a me, sai, non lo amo, però non posso dire che non è un bravo pilota, è un fenomeno anche lui, senza ormai di dubbio, ci ha regalato molto. Cioè, ha fatto una gara in un sorpasso ogni giro, praticamente. Non è stata brutta. Ha combattuto con Magnussen, all hail to Kevin Magnussen, che ha tenuto dietro per due giri Hamilton. Gli è finito anche davanti, tra l'altro, a fine gara, perché poi la classifica la andiamo a vedere. Sono d'accordo con Magnussen ha avuto possibilità di combattere con Hamilton. Se fosse stato l'anno scorso, ok? Supponiamo anche che Magnussen avesse una macchina come la Red Bull, una macchina seria, ma secondo me questa aerodinamica sta funzionando, perché non penso che Magnussen l'anno scorso avrebbe combattuto in questo modo con un ipotetico Hamilton. Cioè, stare dietro quest'anno è veramente un vantaggio, almeno mi ha dato questa impressione. Vedere la difesa strenua, il continuo combattimento tra Ocon e Alonso. Cioè, appena uno veniva sorpassato, si ributtava dentro e si sorpassava, perché non c'era alcuna resistenza d'aria. Cioè, nel momento in cui io ti passavo, io rallentavo e tu acceleravi. Era un incredibile continuo scambio. Quindi, se sui primi due non possiamo dire niente, perché loro sono dei fenomeni su un altro pianeta e le macchine sono comunque delle top macchine. Ma secondo me, in linea di massa, su tutto il regolamento, non sono d'accordo con te. Secondo me ha cambiato molto la dinamica di gara. Molto. Non lo so, diciamo che per le posizioni che non contano, cioè dal quarto in giù, la lotta c'era l'anno scorso, c'è anche quest'anno. Per quello io dico, sono delle gare che sì, sono belle, hanno aspetti diversi, ma non c'è ancora quel cambio rivoluzionario. Sono sempre due gare, per l'amor di Dio. Però due indizi fanno una mezza prova, no? Vediamo la prossima gara in Australia, però il circuito è totalmente diverso, quindi magari lì la Mercedes si ripiglia, perché la Mercedes, vabbè, che deve sistemare tutta la macchina, perché abbiamo capito che non va. Però, per dire, ha ragione chi dice che Hamilton ha fatto una bella gara, perché sì, è vero, è finito decimo, ma prima della Virtua Sessi Car era sesto, poveretto. Hamilton ha fatto una bella gara, ma avrebbe limitato i danni anche stavolta. Hamilton ha fatto una, come si dice, un errore strategico abbastanza importante, coadiuvato da una sfiga incredibile. Gli ha chiuso la pitlane, perché Alonso e quell'altro erano bloccati in mezzo alla pitlane. Adesso, gli altri con le hard hanno fatto qualcosa come 30 erotti giri, fondamentalmente. Lui ne ha fatti più di loro, perché ha voluto tirare, lui era già nella fascia di pitstop agevole per lui. Se lui cambiava subito, invece di dire, no, tiro avanti ancora, eccetera, cambiava subito e metteva delle gomme più veloci. Se già con le hard un altro po' massacrava tutti, metteva delle medie, arrivava in fondo alla gara e non aveva il problema della pitlane e sorpassava parecchia altra gente, perché andava ancora più forte. Soprattutto se faceva undercut, che a quel punto lui andava più forte e gli altri dovevano cambiare le gomme. Col suo talento lui doveva sfruttare un undercut. Invece, secondo me, ha assolutamente sbagliato proprio strategia, Hamilton. Qua ha fatto proprio un errore. Per rispondere al collega, lui dice, il campionato sarà molto bello, ma pretendo che la Mercedes si ripigli. Voglio Hamilton davanti con gli altri due. Io voglio Russell, più che Hamilton. Il tuo punto di vista, ma esatto, Russell. Io voglio Russell. Io e Giorgione lo trasso nei tempi della F3. No, no, Giorgione e Russell. Io voglio più vedermi davanti, io voglio vedere lo scontro tra Russell, Leclerc, Verstappen e in un ipotetico anno futuro, se proprio avessimo un minimo di culo che fanno una macchina decente, Lando Norris. Io vorrei vedere uno scontro tra i quattro dell'Ave Maria, i quattro giovani, quel contro Coglio e Hamilton. Anche basta, sinceramente. Stà dietro è anche troppo un vantaggio, dice poi il collega. Vedi le inchiodate prima della linea di attivazione del DRS, lì secondo me andrebbe fatto una regolamentazione perché è imbarazzante che in due gare le abbiamo già viste dieci di inchiodate prima della linea del DRS ed è veramente imbarazzante come cosa. Soprattutto a Jedda che è una pista dove il DRS era iperpotente e si è visto, e io dico un'altra cosa, qui hanno ragione gli opinionisti di Sky che hanno detto, io non metterei mai tre zone DRS a Jedda, ma mai nella vita, ne metti due, basta. Cioè tre sono troppe, soprattutto posizionati lì, perché la doppia inchiodata di Verstappen e Leclerc per non forse superare, perché poi il DRS elettrico è troppo potente, è qualcosa di comico mi verrebbe da dire. Oh, poi niente da dire, spettacolo anche quello e loro due, finché tra virgolette lo fanno loro due che sono primo e secondo, stanno combattendo lì a un secolo dagli altri, sono di relativo poco pericolo, ma il punto è che un'inchiodata, quando siamo in un gruppo di 3-4, siamo in fila, ok? Se tu inchiodi io mi sposto, ma quello dietro non hai detto che riesca a spostarsi, ci centriamo, è una strage. Cioè, andrebbero prevenute queste cose, al di là delle tre linee DRS che a Jedda non c'è mettere neanche io due, secondo me vanno bene, perché i due rettilinei più lunghi sono talmente abominevoli che due bastano e avanzano, ma secondo me in generale andrebbe prevenuta una roba del genere. Esatto. È concepibile, è follia pura inchiodare a sta maniera a metà di un rettilineo. Vabbè, è una roba inguardabile, ma neanche io e te, quando giochiamo ai giochi di guida che facciamo a livello amatoriale, ma neanche ci viene lontanamente per idea di fare una roba del genere. Oppure, banalmente, una cosa che non ho mai capito il perché, è perché l'emanazione di energia dell'ERS sia limitata a 80 cavalli. Cioè, a reo, dura di più, per l'amor di Dio, ma dammi la possibilità di regolare l'uscita. Cioè, quello al DRS, allora io... Io imposto l'ERS come quando sono in qualifica in hot lap, dove scarico invece di 80 cavalli, ne scarico 120, il suo DRS è automaticamente mitigato, no? Però poi io, facendo così, brucio il mio ERS. Quindi non è detto che alla prossima zona di ERS lui mi massacri. Ci mancherebbe. Però già solo il fatto di permettermi di regolare l'ERS, presumibilmente, potrebbe evitare certe situazioni del genere. Perché io, dico, ho 80% di DRS, ne brucio il 40 subito, ma sono tranquillo che non mi sorpassi. Non ho bisogno di fare un'inchiodata veramente infame in mezzo a una curva, in mezzo a una pista dove non dovrei frenare. A di là del fatto che, secondo me, una cosa così andrebbe valutata come brake check, perché è un brake check a tutti gli effetti, è vietato. E vietato da regolarizzarlo, così come le lastre. E lui non me ne frega se c'è il DRS. Quello è un brake check, è una frenata in una zona dove non si frena. Quindi, no. A prescindere. Però, appunto, non capisco perché abbiamo delle limitazioni assurde, tipo 80 cavalli DRS, che servono sì, ma fin lì. Perché quando raggiungi, arrivi alle velocità di punta, ti danno un chilometrino, due in più, sì e no. Il DRS fa molto di più. Dovresti dare la possibilità a quello che si difende, di difendersi con più forza. Che poi uno dice, vabbè, allora torniamo indietro a quando non si sorpassava. Nì, perché io lo faccio una volta, due, ma poi l'ERS finisce e non posso usarlo sempre con tutta quella erogazione di energia esagerata. Quindi, comunque, prima o poi mi devi sorpassare. Però vai a prevenire certe manovre scorrette, secondo me. Altro punto che hanno cambiato col regolamento, che però si sta rivelando, probabilmente l'arbitro del campionato, e si rivelerà l'arbitro del campionato, è la composizione del motore e dell'affidabilità conseguenziale, no? Perché hanno cambiato tutta la macchina, non ne parlavamo prima. Anche la posizione del motore è diversa, anche il tipo di motore è diverso rispetto all'anno scorso. Però si vede che sono motori poco rodati. Cioè, ogni gara ci sono quattro macchine che esplodono. Le più disparate. Cioè, e a sto giro, in Bahrain e in Arabia Suddita... Le più disparate! La scorsa volta non sono state mica tanto disparate, sono state tutte le stesse. Però, il discorso è, se è capitato a Verstappen in Bahrain, può capitare benissimo a Leclerc. Quindi, chi decanta il fatto che il predestinato è primo nel mondiale? Fermi, perché sono 23 gare in totale, ne abbiamo fatte due, e l'affidabilità è veramente in rodaggio. Cioè, nel giro di 20 secondi nella gara di Jedda si sono fermati Ricciardo, Bottas e Alonso per problemi praticamente simili. E qui, la seconda comica della direzione gara. Perché una Virtua Safety Car di due giri, perché dei Marshall incompetenti o non abituati, diciamo così, è una roba inutile. E danneggi anche gente che sta limitando i danni, vede il povero Hamilton di prima. Altra cagata della direzione gara, qui apro parentesi, in Formula 2, il povero Dennis Hager gli hanno boicottato la gara. Dennis Hager, per chi non lo sapesse, è il campione regnante di Formula 3 in carica. Norvegese. Molto bravo, tra l'altro. Corre per il team Prema, team italiano, peraltro. È un Red Bull Junior Team, quindi occhio e attenzionato. Era primo in gara sprint, succede l'ennesimo incidente di Jedda, ma va, che strano. Stranamente Safety Car. Il pilota è primo, gli dicono, no no, per spostare i dettagli della pista, entra in pit lane, no? Lui fa per entrare in pit lane, nel frattempo gli chiudono la pit lane, gli altri proseguono sul traguardo, questo fa un drive-thru a 60 all'ora e lo penalizzano perché è entrato con la pit lane chiusa. Ma allora siete scemi, c'è direzione di gara. Beh, questo è finito ultimo, doveva vincerla la gara sprint perché frutto dell'inversione della griglia è quello che vuoi. Bene, è solo la sprint quello che vuoi, però comunque mi hai rovinato anche la feature dove parto ultimo. No, no, non è vero perché hanno cambiato il regolamento quest'anno in Formula 2. Ah, hanno cambiato adesso. No, quest'anno la qualificazione del venerdì fa griglia di domenica, che è la gara lunga. Ah, ok, ok. E al sabato si inverte la griglia. Ha più senso, effettivamente. Sì, sì, decisamente. Hanno poi cambiato l'assegnazione dei punti della pole position, due anziché quattro, e un punto per il giro veloce anziché due. Non ho mai trovato il senso di assegnare i punti per la pole position, che secondo me... Sono poche gare, ha senso. Ma anche se sono poche gare, però io ho azzeccato un giro veloce, ma dopo devo avere la costanza per 50 per prendermi i punti. Non trovo molto senso di regalare due, tre, quattro punti a una pole, onestamente. Esatto. Quindi il povero norvegese l'hanno boicottato, palesemente, cioè questo è palesemente un boicott della FIA. In mente qualcun altro di italiano che è stato boicottato varie volte l'anno scorso, ma gli entreremmo in un altro discorso. Ah sì, quello sostituito dal cinese che ha fatto bene, il cinese oggi in Formula Sì, hai visto che fenomeno. Infatti il cinese è stato così bravo che ha preso una penalità, non l'ha rispettata e ha preso altre penalità e praticamente ha finito ultimo la gara. In realtà no, perché è finito undicesimo, perché ricordiamo che sono arrivati i 14 al traguardo e gli ultimi tre, così, sondaggio tra i telespettatori, anche postumo. I motorizzati Mercedes sono nelle ultime tre posizioni, quanti sono? Anzi, avventiamo ancora una cosa. Quali scuderie sono arrivate nell'ordine terz'ultima, penultima e ultima? Ma sei sicuro che non hanno fatto delle correzioni? Mi sembrava di aver letto, sai che io poi appunto quando riesco a seguire le gare leggo. Mi sembrava di aver letto che poi avevano fatto una correzione e hanno dato un'ulteriore penalità postuma a Guanyujo, proprio per come siamo. La classifica di Wikipedia davanti che è aggiornata, quindi... Ah, ok, allora niente, avevo capito male. Dunque, per chi non lo sapesse, sono arrivati nelle ultime tre posizioni due a Stone Martin e una a Williams, ma non l'avrei mai detto, ma guardate un po'. Sì, sì, peraltro Nicola Sulkenberg batte l'Anstroll, questa cosa mi fa piacere. A modo, a modo. Esatto. Oh, devo dire, per il discorso dell'affidabilità, secondo me, un grosso, grosso limite non sono stati tanto gli regolamenti sui motori nuovi, perché quando hanno fatto i motori nuovi le vecchie, le scorse volte, molti non hanno avuto nessun problema. Non è stato il budget cap che ha ucciso team come appunto Mercedes, che sono abituati dico, vabbè, arriviamo prima nei costruttori, abbiamo 100 milioni in più degli altri, quindi facciamo motori a scatafascio, li distruggiamo e intanto testiamo l'affidabilità, testiamo tutto quello che vogliamo. Adesso gli hanno detto, guardate, avete i soldi per farne due di motori. E quindi non possiamo più fare tutti i test che facevamo prima e le cose si complicano, capito? Sì, sì, sì. Non è stato più il budget cap ancora che le rivoluzioni tecniche a cambiare veramente tanto la situazione. Detto ciò, io sono molto contento perché ha rimescolato tantissimo le carte. Anche se sono convinto che Mercedes arriverà, perché l'ho detto nel podcast, lo ripeto qui in diretta, mai darli per morti, ma neanche per sbaglio, cioè non vincono il titolo del mondo, però magari a metà stagione con gli aggiornamenti che fanno, magari rompono un po' le scatole per la vittoria, per il podio, magari in alcune piste dove c'hai meno motore, vedi la prossima, perché Australia, che io me la ricordo, è un cittadino. Australia secondo me si fanno sentire. Eh, Australia arriva. Oddio, hanno cambiato il layout. Ha un telaio che fa paura, eh? La Mercedes non è fortissima come motore, ma ha un telaio che fa paura. Quindi nelle curve lente abbiamo visto anche, ho visto delle comparazioni per esempio relative al Bahrain. In tutte le curve lente Hamilton aveva più velocità di percorrenza di Leclerc. Poi però il problema era che in entrata frenava 50 metri prima e in uscita accelerava 50 metri dopo, quindi dopo Leclerc andava a recuperare la grande. Ma in un circuito molto guidato potrebbero appianarsi molto i distacchi. Monaco, per esempio. Aspettiamoci una grande Mercedes a Monaco. Ha una buona base, il problema è che ha un motore che è una chiavica e che l'aerodinamica non ha beccato neanche quella, devono aggiustare anche quella. Hanno molta roba da aggiustare. Secondo me tornano, ma tornano nella seconda metà di campionato ad essere. Sì, magari possono essere gli spoiler quando c'è la gara bagnata o nel Monaco di turno. A Monaco, io li vedo bene, questa Mercedes. Cosa che ritengo fondamentale è il fatto però che la base dei motori non potrà più cambiare fino al 2026. Che significa che Ferrari parte con una base nettamente migliore di motore. Cioè parte con un motore mega performante che devono aggiornare. Se non lavorano coi piedi, teoricamente partono con un netto vantaggio rispetto a Mercedes che come motore parte male perché ha dei problemi di riscaldamento, ha dei problemi di potenza. Considerate che a parità... Allora, hai presente la curva del Bahrain? Quella che si fa veloce dopo il secondo rettilineo. Cioè la curva in discesa strettissima, poi il secondo rettilineo e poi la curva in discesa. Quella che si fa in quarta marcia verso sinistra. Sì, sì, sì. Scali, fai quarta e la fai scorrere. Sì, sì, sì. Perfetto. Quando arrivi lì, arrivi in ottava avanzata, in fondo a rettilineo. Perfetto. Lì nel paragone c'era un Hamilton con un'ottava con 11.900 giri, una roba del genere, quindi anche abbastanza tirata, che faceva una determinata velocità, non ricordo quanto fosse. E c'era l'Eclerc con ottava marcia, mille giri sotto, con qualche chilometro in più. Una differenza prestazionale di motore paurosa. Una differenza prestazionale paurosa. Ora, che ci lavorino, che facciano quello che vogliono, ma la base da cui partono è nettamente svantaggiata. Se Ferrari non dorme sugli allori, hanno una strada lunghissima da percorrere prima di tornare competitivi. Tornare nelle fila? Sicuramente. Non lo metto in dubbio che lo faranno in breve tempo, perché sicuramente sull'aerodinamica soprattutto ci metteranno poco ad aggiustare. Ma tornare ad essere combattenti, non dico incontrastati, ma validi per i primi due posti in maniera costante, secondo me ci manca tanto, tanto tanto. Secondo me devono lavorare benissimo loro e malissimo in Ferrari e Red Bull. Infatti non stupiamoci se adesso questa Mercedes perde un minuto a parità di circuito, perché l'anno scorso vincevano con 30 secondi di vantaggio. A sto giro sono 30 secondi dietro, vedi Russell, che è stato il migliore della Mercedes in generale, è arrivato a mezzo minuto, complici dei safety car, virtual safety car, tutto quello che vuoi. Però, cioè, povero Russell. A me anche va strano questo Hamilton che ha qualcosa che non va, ma poi finisci il discorso. No, 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 cioè, nel senso, era finito. Voleva arrivare anche giusto lì a Hamilton, nel senso che, cioè, Hamilton è ancora più imbarazzante, cioè, perché è vero che la macchina non va, ma Russell ha fatto quarto e quinto, eh, nelle prime due gare, non è che ha fatto ventesimo e trentaquattresimo. Sì, 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 no, Russell ha fatto il massimo che poteva fare con quella macchina. Cioè, Hamilton in qualificazione, in realtà, sedicesimo, cioè, battuto da Lance Stroll per 80 millesimi, cioè, bruh, cioè, si vede. Già, quello fa male perché noi Stroll lo vorremmo sempre vedere fuori. No, cioè, ma Hamilton l'anno scorso ha vinto, con la penalizzazione a Verstappen, con tutto quello che è successo, la direzione gara che ne continua più di tardi. Con la non penalizzazione ad Hamilton, che ci sarebbe stata anche quella leggera. Sì, 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 la bandiera nera, quel pallino arancione che non c'era, sì, 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 tutto quello che vuoi. Però ha vinto, cioè, l'anno scorso, anzi, l'anno scorso, tre mesi fa, l'ancorsa a dicembre, l'anno scorso, siamo a marzo. Esatto, esatto, esatto. Però, dicevo, quello che mi fa strano è che c'è qualcosa, proprio in Hamilton, io non so se è rimasto segnato perché l'anno scorso ha perso all'ultimo e ci è rimasto male, o che cazzo succede? C'è qualcosa che in Hamilton non sta andando. Primo perché prove, abbiamo visto, prima del Bahrain, Russell è andato sempre più forte di Hamilton. Ora che Russell sia forte, non abbiamo dubbi, ma il campione del mondo, sette volte, mostro perché è un fenomeno pure lui, con una macchina che conosce nettamente più di quell'altro, per quanto sia cambiata, ma voglio dire, come lavora col team, anche, sai, a settare la macchina, eccetera, presumi che Hamilton ne abbia un pochino di più. In Bahrain ha fatto poco meglio, perché poco meglio, voglio dire, e a Jedda veramente ha fatto una fatica incredibile già dal primo giorno, che sembrava che non riuscisse a guidare, e quando dei due, alla metà della stessa macchina, era Russell. Quindi, tu dici, certo, se Russell sia la metà della macchina e Hamilton sta messo così, qualcosa che con quattro c'è. Ma poi il fatto che Hamilton abbia fatto dei team radio con Bono, il suo ingegnere, dove faceva veramente domande che sembrava uno fuori dal mondo. Cioè, vedere appunto, già dall'anno scorso erano successe queste cose, che verso fine anno era un po' sotto stress, vedeva la safety car e chiedeva perché c'è la safety car, intanto stava passando di fianco alla tifi e sploda. Perché c'è la safety car? Ma chissà perché c'è la safety car, però dico, proprio come se fossi in un mondo a parte, Come se ne facesse parte. Adesso quando è arrivato decimo, a fine gara, fa il team con Bono e lo chiama e gli fa... Bono gli dice, ti confermo che se hai arrivato decimo in questa gara, gli fa, hai limitato i danni, per quanto poco però hai limitato i danni, e lui gli risponde e gli fa, perché ci sono punti per questa posizione? Dove hai vissuto fino ad oggi? Capisco che non sei abituato a finire decimo, però è il regolamento. Capisco che hanno cambiato il regolamento, però minchia, non sai il regolamento, siamo messi male. Ma è la base. Adesso, lo scorso Gran Premio, non mi ricordo cosa è successo, ma anche in Bahrain, ha fatto un'uscita con il team radio, con Bono, che gli ha dato una risposta che un altro po' sembrava imbarazzato, non mi ricordo di cosa stessero parlando, ma anche lì, sembra che non ci sia con la testa, sembra veramente che sia in un mondo a parte, non so se è stressato, deluso, sotto pressione, non lo so, non sembra Hamilton, Hamilton era quello freddo, calcolatore, dal primo giro lui, anche se non era in testa, sapeva dirigere la gara, sapeva cosa stava facendo, non sembra più lui, è impressionante. Così come non sembra più lei, la mia McLaren, qui ha la mia partita da tifoso, che con tutti i problemi che abbiamo, uno fuori, Ricciardo per l'esimo problema alla pavio, che pare che Ricciardo voglia andarsene, ma non ci credo neanche se lo vedo, alla seconda gara, uno dalla McLaren. Dalla McLaren, no no, cioè... Il mercato piloti non è nella pausa stagionale. Non lo so, sinceramente, però... Il mercato piloti mi sa che è nella pausa stagionale, quindi ci ficherebbe tra qualche gara, volendo potrebbe farlo. Benino Norris che finisce settimo pezzando la stragrande, nel senso che anche qui, un motore che non va a macchina indecente, però almeno appunto ci vai, ok, si è ritirato Gualtiero e si è ritirato Alonso davanti. E delusione al ritiero di Gualtiero e di Alonso, veramente che delusione, perché tutti e due, erano due che dicevo, stanno facendo la gara fenomenale. Sono a punti, combattono, con le macchine che hanno, stanno dimostrata, veramente, bella bella gara e poi scoppia tutte e due le macchine. È stata una delusione incredibile. Ma ripeto, l'affidabilità sarà un fattore, quindi non stupiamoci se a un certo punto anche una macchina come la Ferrari, non per tirarla ai tifosi della rossa, però in un campionato di 23 gare, questa componente che ha fatto fuori quante macchine in due gare? Sei? Sette? Tre della Honda, più quell'altra che è andata fuori la scorsa volta, più quante... Otto. Otto. Insomma, in due gare, diciamo che più che vincere la gara devi sopravvivere alla gara. È un'ecapombe, esatto, è una gara di sopravvivenza. Anche perché, appunto, ieri al traguardo, ieri, scusatemi, domenica, arrivati al traguardo in 14, su 20 partiti, che uno non è partito, c'è Schumacher e neanche Zunoda. Un risultato così disastroso non si vedeva, penso, da quella gara in cui erano scopiati tutte le gomme di uno dei due fornitori ed erano arrivati in sei alla fine della gara. Madonna, la gara fantasma di Indianapolis 2006. Indianapolis, è vero. Che c'erano le due Ferrari, le due Jordan e le allora due Minardi. Che bello. E basta. L'unica volta che la Minardi è entrata è in zona punti, praticamente. Sì, più o meno. Terzo posto di Thiago Monteiro, portoghese, che adesso corre nel WTCC, che è una categoria molto interessante per chi vuole vedere gente che si butta fuori, passa dall'esterno dei cordoli. Sì, sì, è tutto bellissimo. È tutto fantastico, sì, sì. Me la guarderò a questo punto. È bello. È il più interessante della Formula 1. Sì, sì, ma di solito è gente che si scarena, si butta fuori, è tutto bellissimo. Ma io sono un po' pro queste cose. Non troppo, però un pochino... Cioè, la gommata nel testa a testa secondo me è passabile. Io sono per le sportellate, sinceramente. Allora dovresti vedere il DTM. Il DTM, l'ho visto dal vivo, è gente che passano in tre sul curvone di Misano, per darvi l'idea. Cioè, madonna! L'ho visto dal vivo, ho visto di quelle robe meravigliose. Sì, sì, sì. Pazzesco. Poi adesso il DTM, anche che ha cambiato il regolamento, è tutto, adesso per usare un termine videoludico, ma anche tecnico vero, tutte macchine di gruppo 3, quelle che ci cacciano tanto, e infatti sono entrate la Lambo, la Ferrari, la Mercedes, la Porsche quest'anno, insomma, tutte macchine che noi, giocando ai videogiochi di guida, conosciamo anche abbastanza bene, ecco. È una bella previsione per i prossimi campionati, insomma. Sì, sì, sì. Per il proposito di premi e previsioni, nel podcast io sai che do i premi. Premi driver del giorno, delusione del giorno. Prima di concluderla, vorrei sapere la tua opinione in merito, sui due premi, diciamo. Eh. O se hai anche altre menzioni speciali, cosa del genere. Allora, al netto che non ho visto la gara e ho recuperato all'esterno, diciamo. Difficilissima sta domanda. Perché, oddio, driver del giorno e delusione del giorno. Ma delusione del giorno forse immeritata, perché non è stata colpa sua, ma Perez. Perché andava talmente forte tra la qualifica e la prima metà di gara, che per me la vittoria doveva essere sua. Cioè, chi meritava la vittoria, secondo me, era lui. Quindi, delusione, ma non per colpa sua. Cioè, delusione mia morale, non delusione lui come pilota. Sì, sì, sì. Delusione come pilota... Oddio, non saprei, sinceramente. Non sono successe cose incredibili. La Tiffy non posso darlo per delusione, perché è lo standard. Quindi, non saprei assolutamente chi dire. La mia delusione del giorno è stata Hamilton, per dire. Per la qualificazione. Perché, come dici, Vite, è il pluricampione del mondo, sette titoli del mondo, cento... Sei vittorie, eh. Ma anche per aver sbagliato, secondo me, la strategia nel voler tirare delle hard tantissimo, quando devono rientrare tutti, tu hai le gomme vecchie, fai un undercut che tu sei già più veloce con le hard, con le medie. Ti fai un culo così. Non sono d'accordo, infatti, su chi dice ha limitato i danni. No. Limitare i danni vuol dire fare podio in Barenna. Limitare i danni di un punto non è limitare i danni. Non è limitare i danni, no. È un'ecatombe, è una tragedia. Mentre il driver del giorno? Driver del giorno, non saprei. Non mi sento di darlo a Verstappen e alle Clerc, che hanno guidato come fenomeni, ma come al solito. Niente di nuovo sul fronte occidentale, diciamo. Quindi potresti darlo. Potresti darlo, volendo, a Ocon per la difesa incredibile che ha fatto su Alonso per tre o quattro giri di fila, che ha dato uno spettacolo bellissimo. Che momenti si buttano fuori con le due macchine rosa. Non sai cosa sarebbe successo dopo, perché un altro po' uno dei due ha smesso, quindi non saprei. Che momenti, peraltro, con la combina, con quella chiusura a muro su Alonso al terzo giro. Volendo, per contrapasso, ti dico Russell, che con il disastro che ha fatto Hamilton, Russell è stato un... Cioè, o Hamilton è andato male male, o Russell è andato bene bene, sostanzialmente. Io invece, vabbè, ti sorprenderò perché io il premio del driver del giorno... Olando, per come... No, 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 per me il driver del giorno è Alonso. Io l'ho dato a uno che si è ritirato il premio driver del giorno, Alonso. Beh, sicuramente ha fatto... Alonso per il garone che ha fatto. Cioè, ragazzi, a 40 anni, questo era tipo sesto, che è una macchina, non dico imbarazzante, però nettamente inferiore alle altre squadre ufficiali, diciamo così, e a 40 anni, questo la spiega e la canta ancora a gente che ha... Io ho nominato Con perché è quello dei due che è rimasto in strada, se no lo dicevo Alonso tra i due. Per me Alonso ha fatto una gara bella. Ultima domanda per concludere la mia parte di podcast. Vedendo il layout di Melbourne, che sarà cambiato da quel che mi dicono, però... I miei passi campionisti, ma non so in cosa, non so in cosa. Adesso lo vedremo il 10 di aprile quando si correrà. A sto punto pronostico al netto che sarà probabilmente ancora Ferrari e Edbull, ecco. Ciao collega, grazie. Ciao, ciao collega, buona serata. Sì, probabilmente, oddio, sono così superiori che secondo me si appianano i gap, ma non penso che la Mercedes improvvisamente... Al massimo un ipotetico Perez sta dietro a una delle due Mercedes, se proprio proprio. Non penso che riescano a fare molto di meglio per la differenza mostruosa che c'è al momento. Però mi aspetto di meglio da, in generale, gli motorizzati Mercedes che avranno meno rettilinei mostruosi su cui andare a perdere, perché c'è solo praticamente il rettilineo a curvone che poi dà sulla curva veloce a sinistra, per la scicana a sinistra, che è proprio lungo, lungo e veloce. Per il resto non ci sono rettilinei incredibili. Quindi, secondo me, avranno meno da perdere sul dritto e più da giocare. Lì dopo si vedrà anche le qualità aerodinamiche delle singole auto e di telaio delle singole auto, avranno più da giocarsela. Quindi, McLaren, presumibilmente nei primi dieci, papabile, papabilissimo, secondo me. Io, invece parlo sul vincitore, per me Verstappen fa il bis, perché abbiamo visto che un'aerodinamica, anche nelle parti veloci della Red Bull, è importante, ha una velocità di punta importante sul dritto di Melbourne, si vedrà. Però Melbourne è molto più... Sì. C'è l'erafrena, eh? C'è solo un dritto che è fenomenale, perché il resto... È molto guidato, però abbiamo visto che anche nel guidato la Red Bull va a me. E secondo me Perez fa podio. Sainz non lo vedo benissimo, perché è vero che ha fatto terzo, ma ha preso le piste dalle clerche, cioè, a parità di macchina... Ha fatto terzo per quello che è successo a Perez, perché sono... Punto, se no faceva quarto, cioè, ecco. Sainz, cioè, sta facendo quello che sta facendo un classico secondo pilota per i punti al team, che per l'amore di Dio vorrei avere anch'io un secondo pilota che nelle prime gare ha fatto secondo e terzo. Dopo l'anno scorso, però, cioè, in linea di massima sì, l'anno scorso Leclerc ha avuto sfiga, ha fatto errori, sono successe cose, però Sainz era stato molto sul livello di Leclerc, a parte proprio le prime gare, per tutto il mondiale se la sono giocata tantissimo. Quest'anno sembra veramente, invece, che Leclerc abbia tirato fuori tutto il talento che aveva tenuto nel cassetto l'anno scorso e che Sainz, invece, sia diventato... sia rimasto lo stesso pilota dell'anno scorso, come tempi parlando, no? Sì, sì, sì. a Cors, come si chiama, a Jeddah, potrebbero anche tentare qualche sorpasso in più, fare un po' più di spettacolo, eh. Gran Premio d'Australia che torna dopo due anni, quindi, insomma, anche lì sono curioso di vedere il nuovo circuito. Potrebbe non essere difficile, per esempio, vedere, non so, Invento, Leclerc davanti, un Verstappen che sfrutta la velocità in rettilineo prima delle ultime tre curve, ok, per fare un corpasso, per buttarsi dentro ai box con qualche centesimo di vantaggio e sfruttarlo, ipoteticamente, no? Sì, sì. Fare un undercut, ma con qualche vantaggio per aver appena superato l'altro. Cioè, se mi hanno cazzata, mi temi di strategia, avere due decimi in più possono essere importanti alla fine della gara e sono cose che si sono viste anche in passato in altre gare. Quindi, su un circuito come Melbourne che è più permissivo, mi aspetto, inizialmente, di vedere qualche sorpasso in più, qualche... anche mettere alla prova il tuo avversario, Vedere a che limite può andare. Dice, io ce n'ho ancora. Vediamo se anche lui ce n'ha ancora. A volte lo fanno i piloti. Potrebbe essere più spettacolare di quello che pensiamo. Sì. Secondo me. Lo vedremo allora il 10 aprile, no? Perché alla fine corrono tra due settimane. Andiamo in Australia. Adesso leggo velocemente la classifica. Con questa classifica, Leclerc 45 punti è primo, Sainz è seconda 33, Verstappen è terzo a 25, ma la prima gara sappiamo com'è finita. Comunque per Verstappen è la vittoria in carriera numero 21. Non so perché avevo scambiato nella testa Leclerc e Verstappen, stavo dicendo come Leclerc è terzo. No, no, no. Verstappen è terzo davanti a Russell con una gara in meno corsa, praticamente, perché la gara del Baren non conta. Peraltro, appunto, dicevo, Verstappen per i fini statistici è il pilota che ha vinto adesso 21 gare in carriera come Raikkonen. Ah sì? Sì, ha eguagliato Raikkonen. Sì, quindi Milestone per colui per il quale hai risuonato. Anche per i mondiali ha eguagliato Raikkonen, non sbaglio, uno a testa. Uno a testa, sì. Sì, sì, sì. Perché Raikkonen è ancora tutt'oggi l'ultimo pilota con la Ferrari ad aver vinto un titolo del mondo. 2007. Non hanno mai più vinto niente dal 2007. Mamma mia. Perché poi c'è stata la McLaren di Hamilton, c'è stata la Braun GP di Button, c'è stato il furto del mondiale di Vettel con la Ferrari, ci sono stati i mondiali scandalosi di Vettel con la Red Bull, ci sono stati i mondiali scandalosi della Mercedes, tranne il 2016, perché Rosberg è fuori. Direi che anche il 2015 è stato un po' scandaloso perché Rosberg lo stava vincendo e ha perso l'ultima gara di un punto. Sì, ma era il mondiale del... Anche quello è stato un po' rubato, cioè Rosberg, poveretto, era di Rosberg quel mondiale. E poi abbiamo visto il duello Ferrari-Mercedes, il duello Red Bull-Mercedes, adesso vediamo il duello Ferrari-Red Bull che sarà appassionante per 22, anzi 21 gare rimaste, perché ne mancano 21, anche perché poi il GP di Russia, notizia, prima di concludere, verrà sostituito, perché c'è il buco nel calendario. Sai da chi hanno già fatto... I nomi sono sempre quelli, Portimao, che io spero tanto di sì, Turchia... Spero tanto di no, lo odio. No, è bellissimo Portimao, è più bello di Barcellona, no? Schifo Portimao. No, Barcellona di sicuro, ma mi fa comunque schifo. Turchia, si spera la Germania, però non so se... che nemmeno Nürburgring, non lo so. Un Nürburgring, sì. Dio sì, un bel Nürburgring. Ma io voglio il Lausitz Ring. Ora, finita la diretta, vai a vederti il layout del Lausitz Ring con la curva ovale, per favore. Ma dopo, ne riparliamo in privato quando... Manca una Malesia, un bel ritorno del campanile di Malesia. No, ci sono ritirati nella Formula 1, perché hanno detto, signore, vince sempre Mercedes, non ha senso ospitare la gara di Formula 1. Ho capito, quest'anno che non vince Mercedes, candidatevi che non c'è più la Russia, no? Porca miseria. No, ma sarà un gran premio... Il Malesia era proprio bello, secondo me. Sì, sarà uno di quei gran premi che abbiamo visto gli anni scorsi. Spero non il Mugello, perché basta, il Mugello e il Formula 1, no. No, perché non ci sta e poi perché anche basta, c'è tre gran premi in Italia. Senza sorpresa, per quanto mi farebbe piacere da italiano, averne un altro qua di fianco a casa, vado a vedere anche quello, però... Sì. Cioè, anche no, tre gran premi in Italia, dopo un po' anche no. No, c'è. Quando ci sono altri paesi che non ce l'hanno, appunto, ripeto, preferirei la Malesia, la Germania e altre cose. Sì, sì, sì. Boh, direi che abbiamo dato, perché un'oretta di trasmissione per me è treplice fischio. Niente, appuntamento al 10 aprile, sperando che la gara dia dei riscontri positivi. Noi ci aggiorniamo presto, sia... Io vorrei invitare chi ci guarda, visto che vedo che ci sono altri viewer collegati, vorrei invitare a partecipare. Cioè, sentitevi liberi di scrivere qualcosa quando ci siete, di esporre le vostre opinioni, perché qua, come vedete, si dialoga in amicizia, eh. Sì, sì, c'è il rispetto. Ci fa solo piacere parlare con voi. Immaginate un bar sport, ma di livello più alto. Ecco. Niente. Sì, sì, più alto, più alto. Niente, io concludo anche il mio podcast, quindi fai tu il cordiale saluto? Come funziona? Aspetta, insegnami. Insegnami in diretta, così la prossima volta lo faccio io. Vabbè. Un cordiale saluto da Matthew Thorgard e... Da Favour Pendragon. Buonanotte a tutti.